E benvenuti a tutti ragazzi in questo nuovo video Oggi vi spiegherò come fare follower su TikTok Infatti nel video di oggi vi spiegherò come riuscire ad arrivare a fare le live su TikTok in una giornata In pratica vi spiegherò come fare 1000 follower in un solo giorno Questo è un metodo che funziona Investendo solo 15 euro infatti otterrete follower 100% reali Che guarderanno anche le vostre live e metteranno like ai vostri video Tanto prima di lasciarvi al video in cui vi spiegherò come ottenere questi 1000 follower Vi chiedo almeno 50 like per un nuovo video su come crescere su TikTok E nel prossimo video vi farò vedere come fare decine di migliaia di follower senza investire un euro Adesso vi lascio al video, ciao! Allora ragazzi siamo dentro TikTok La prima cosa da fare è entrare nel vostro profilo Andare su condividi profilo E prendere il link del vostro profilo Allora io ho avuto un po' di problemi Andando a copiare il link Quindi vi consiglio di mandarlo su WhatsApp A qualcuno e poi copiare dalla link Perché TikTok ogni tanto non prende il profilo Poi andate nel link che vi metterò in descrizione e nel primo commento Andate su TikTok e andate sulla sezione followers Poi se volete potete andare anche su like e commenti Allora noi però in questo video ci interessa la parte follower Scegliete quanti follower mettere Io metto 1000 follower per 14,99 euro Mettete il link del vostro canale TikTok E andate ad aggiungere il carrello Poi cliccate per acquistare E adesso dovete pagare con Paypal, Apple Pay O comunque con carte di credito Ehm 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 Grazie. Voi, adesso, quando avrete finito il pagamento, dovete fare tutto quello che vi dice, tanto il sito è affidabile, entrate nel vostro profilo e aspettate che dopo un po' i follower iniziano ad arrivare. Ci vuole un po', un po' di minuti ci vogliono di solito, però i follower arrivano. Basta solo aspettare. Di solito non ci mettono neanche troppo ad arrivare i follower. Diciamo che su Instagram, comunque, il server del sito in cui avevo comprato era in manutenzione, però appena finita la manutenzione, entro 5-6 minuti mi sono arrivati tutti. Su TikTok fanno un po' più fatica ad arrivare, ma arrivano anche là. Tranquilli, adesso ci ribecchiamo quando i follower iniziano ad arrivare.